Che cazzo è? Sono l'assistente Loris Loris chi? Scusi? Che cosa si fa lei qui? Io faccio la cacca e vendo soprattutto mimine Le vuole una? No guardi io le ho già finite quelle da un pezzo Dai sono buone al presto di 2 ne prende 8 Dai sono col culo di tua mamma No guardi le ho finite me le sono messe nel culo Mi è piaciuto grazie ma guardi devo rifiutare perché Perché se non le prende sua mamma potrebbe Eh la Chirina mi scusi Fa schifallotto come il culo Allora sua mamma dicevo può essere incanalata nella mimma Oh non parli così di mia mamma per favore perché Mia mamma è una bella donna e ha il culo moscio e E' ricca di tante cose Chirina che di qui? Io e sua mamma me la sono fatta ieri e tutte queste cose non le ho Guarda mi spiace ma Io gli darei queste per mimmare sua mamma Mi pulirò il culo con quelle non posso E' ottimo anche per fare quello ovviamente Le prenda solo 2 No basta veramente ciao